Il Movimento 5 Stelle presenta alla stampa e ai cittadini la proposta per ridurre le tariffe dell'RC Auto con le tabelle di rimodulazione del bollo che porteranno vantaggi sostanziali nelle tasche dei campani. La candidata presidente per la regione Campania, Valeria Ciarambino, insieme con il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio e il senatore Sergio Puglia, hanno dato appuntamento alla stampa e agli elettori per spiegare la proposta senza dimenticare però un accenno alla questione impresentabili che in queste ore sembra andare più di moda degli stessi programmi dei singoli candidati. Una volta entrati in regione Campania noi stipuleremo delle convenzioni con le compagnie assicurative, delle convenzioni regionali con abbattimento del 20% almeno del costo del premio assicurativo, convenzioni destinate a tutti i cittadini campani. Per me De Luca è game over. Dopo la sentenza della Cassazione non c'è più alcun dubbio. De Luca se verrà eletto dovrà essere sospeso dalla prefettura e ci vorranno mesi se non anni prima che il tribunale ordinario lo reintegri o lo faccia decadere del tutto. Di impresentabili ha parlato anche il candidato alla presidenza della regione Campania per sinistra al lavoro Salvatore Vozza. La lista degli impresentabili presentata dall'antimafia, dice Vozza, sta diventando l'ennesima commedia all'italiana. Una commedia, ha proseguito il candidato di sinistra al lavoro, che però non fa ridere. Vozza critica il tempismo della commissione sulla lista che, per quanto riguarda la campania, verrà presentata a campagna elettorale conclusa in pieno silenzio elettorale. Ho rispetto per il presidente della commissione antimafia Rosi Bindi, Chiosa Vozza, ma mi chiedo se abbia avuto pressioni che motivino la mancata divulgazione degli impresentabili campani. Non entra invece nel merito della questione il candidato alla regione Campania per la lista civica Mo, Marco Esposito, che piuttosto si concentra sul danno d'immagine che il popolo napoletano avrebbe avuto a causa di alcuni servizi giornalistici che avrebbero denigrato il capoluogo e i suoi cittadini. Il movimento meridionalista ha presentato infatti gli atti di citazione per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del quotidiano libero e del Tg2, Re, secondo Esposito, di aver denigrato Napoli, che sarebbe stata considerata nei due servizi in questione come culla dell'imbroglio e città in cui si vive al di fuori della legge. Si tratta di un'azione pilota con la quale intendiamo costituire un precedente giurisprudenziale, sottolinea il segretario nazionale del Movimento Mo, Marco Esposito. Il provvedimento, predisposto dagli avvocati Alessandro Izzo e Francesco Labruna, è arrivato dopo il rifiuto delle due testate di aderire alla proposta di conciliazione obbligatoria per legge e chiede un risarcimento che verrà devoluto in beneficenza per il danno d'immagine apportato all'onore e alla reputazione del popolo napoletano. Non mi aspettavo, francamente.